La commissione di inchiesta su bus si finalmente parte intanto, abbiamo immediatamente convocato la prima seduta di lavoro per giovedì della prossima settimana, la prima data utile possibile. Le finalità sono quelle indicate con precisione dalla delibera del Consiglio regionale. In sostanza si tratta di accertare i fatti che sono accaduti, di condurre un'analisi, una lettura e una ricostruzione completa dei fatti stessi e si tratta di verificare quali sono gli ostacoli che si frappongono all'avvio del disinquinamento e quali altre attività bisognerà programmare per raggiungere l'obiettivo dell'integrale disinquinamento. Queste sono le finalità. Noi cercheremo di svolgere questa funzione, io certamente garantirò che ciò avvenga in modo imparziale, completo e tempestivo, perché vogliamo scrivere una pagina da mettere a riparo dalla contesa politica, perché qui parliamo di ambiente inquinato e maltrattato, di diritto alla salute, di reindustrializzazione. C'è bisogno di un lavoro approfondito, serio, compiuto. Nella prossima seduta disporremo l'acquisizione di tutta la documentazione, che immagino sarà molto copiosa, consistente, dei soggetti da udire e poi approveremo il programma dei lavori per fare in modo che non solo si entri subito nel vivo, ma si possa intravedere una qualche conclusione, anche eventualmente intermedia prima della relazione conclusiva, con particolare riferimento alla individuazione degli ostacoli che si frappongono all'avvio dei lavori di disinquinamento.